Il Market Centrale è il posto ideale per fare la spesa tutti i giorni, con un risparmio garantito su tutti i prodotti, offerte con la O maiuscola su salumi, formaggi e prodotti da banco. E se vuoi la spesa a domicilio, chiama al 346 85 83 688. La riceverai comodamente a casa tua. E per Natale, vastissimo assortimento di panettoni, bottiglieria e cestini. Market Centrale, via della conciliazione 27, Siderno.